buonasera e bentornati sul nostro canale youtube only one cristiano che sta faccio io partecipo al video ma che che intendi partecipare io partecipo al video già lo stiamo facendo il video non ci vedi perché a me non mi hai chiamato hai chiamato lei stavolta ma no perché non mi importa ma ho capito ma che problemi c'hai se ci sto io scusami te do fastidio ma certo scusa ci sto io per una volta che mi chiamo a me fammelo fa a me scusami vabbè sto qua a vedere no vabbè ma magari potreste presentarlo entrambi non cazzo vuoi bastardo cioè senti cristiana io non so che che intenzioni c'hai comunque adesso ci sto io quindi ti prego di andartene e tu stai zitto siediti basta ci sto io adesso ok ciao allora proseguiamo sei pronto buonasera e bentornati sul nostro canale youtube only one bentornati sul nostro canale youtube only one oggi torniamo a parlare della vicenda di cristoforo colombo che abbiamo lasciato in sospeso qualche pillola fa pertanto vi lascio il link in sovraimpressione della pillola sugli antefatti di questa entusiasmante avventura oggi con alessandro parleremo del secondo viaggio del nostro navigatore ciao alessandro allora raccontaci ciao chiara un saluto anche ai nostri youtube spettatori allora vista l'eccezionale scoperta venne messa in piedi una vera e propria spedizione di colonizzazione 17 navi 1200 uomini bestiame e sementi il tutto ben impacchettato salpò da cadice il 25 settembre 1493 colombo partì stavolta insieme al fratello giacomo la nuova rotta prevedeva sempre lo scalo alle canarie ma lasciato l'arcipelago le navi seguirono un percorso più meridionale approdando nelle antille per la precisione a deseada un'isoletta di fronte guadalupe oggi chiamata la desirade perché francese qui gli equipaggi costatarono che gli indigeni erano cannibali no ale ma veramente erano cannibali tant'è che colombe suoi pensarono o ce li mangiamo noi o togliamo le tende pertanto si spostarono subito verso nord costeggiando tutte le isole sino a puerto rico e procedendo fino al villaggio navidad che era dislocato ad haiti per riprendere i 38 uomini rimasti a terra dopo il naufragio della santa maria che poi ale questo è un argomento di cui già avevamo parlato nella pillola precedente di cui vi lasciamo il link in sovraimpressione tuttavia nessuno era più là la guarnigione aveva nel frattempo depredato e stuprato le donne degli indigeni tainos i quali si vendicarono massacrando i 38 uomini poco distante da navidad sulla costa venne fondato l'insediamento di la isabella in onore della regina nel frattempo colombo fece istituire un consiglio di governo presieduto dal fratello giacomo e il 24 aprile 1494 colombo riprese il mare per continuare l'esplorazione convinta ancora di aver aggiunto le indie colombo navigò per quasi due mesi toccando le coste meridionali di cuba credendo fosse il mangi territorio descritto da marco polo e corrispondente all'indocina dunque passando per la giamaica e malato di artrite rientrò alla isabella dopo cinque mesi di esplorazione dove trovò l'altro fratello bartolomeo mandato qui dai castiglia per fare rapporto sulla questione dei diritti di possesso sulle nuove terre nel frattempo la situazione era degenerata ricordiamoci che partirono più di mille persone colombo seppur ammiraglio e vicere delle terre scoperte era assente perché in esplorazione ma non aveva comunque quella che noi nei curriculum definiamo per disposizione alla leadership certo sapeva come gestire un equipaggio ma probabilmente niente di più gli spagnoli alla ricerca dell'oro si resero odiosi agli indigeni e si dispersero per tutta l'isola di spagnola all'epoca così chiamata l'isola oggi divisa fra iti e la repubblica domenicana dove appunto fu costruito il forte navidad e l'insediamento di la isabella ci furono delle rivolte seguite da atrocità e battaglie in cui i nativi furono massacrati a colpi di bombarda e dilaniati dai cani feroci degli spagnoli per tutto il 1495 colombo e suo fratello bartolomeo cercarono di trarre profitto dall'isola fu scoperta una miniera d'oro mentre colombo imponeva gli indigeni di presentare ogni tre mesi una certa quantità d'oro e 25 libre di cotone tessuto la popolazione nativa non poteva sopportare queste imposizioni e cominciò a diminuire in modo allarmante nel frattempo bartolomeo fondò il porto di santo domingo e non lontano da là scoprì un nuovo giacimento aurifero quindi ale scusami ma secondo la mentalità dell'epoca fin tanto che le miniere non avrebbero dato rendimento la colonizzazione poteva considerarsi un vero e proprio fallimento allora certo per giunta alla fine del 1495 un inquisitore reale sbarcò di spagnola per fare rapporto colombo pertanto fu costretto a rientrare ripartì dalla isabella e rientrò in spagna nel 1496 per giustificarsi a corte di quanto stava accadendo si concludeva il secondo viaggio per cristofolo colombo non si stava mettendo per niente bene ma se volete vedere come continua seguiteci sul nostro canale iscrivetevi e attivate la campanella intanto vi mando un saluto salutiamo anche alessandro ciao e grazie grazie a voi ciao alla prossima pillola ciao